Lo spioncino di Emile, di Georges Simenon. Capitolo primo, dove una ragazza sviene tra le braccia del robusto Torrance e si scopre che nell'Agenzia O vige una strana gerarchia. Undici del mattino. È ormai chiaro che la nebbia vischiosa che avvolge Parigi dalle prime luci dell'alba non si dissiperà per tutto il giorno. La ragazza ha fatto fermare il taxi in Rue du Faubourg Montmartre e si inoltre ha passo spedito sotto l'arco di Sité Berger. Di sicuro al Palace stanno provando uno spettacolo perché almeno 30 ragazze, fra comparse e ballerine, vanno su e giù per il marciapiede. Proprio di fronte all'ingresso degli artisti, il salone di un parrucchiere con la facciata dipinta di un vistoso color malva, Shea Adolf. A destra una porticina, un andito buio e una rampa di scale. Nessuna portinaia a fare la guardia. Una targa di smalto bianco con una scritta nera. Agenzia O, secondo piano a sinistra. Le più celebri vedette hanno varcato la soglia dell'edificio di Rimpetto e noti uomini politici, principi del sangue e miliardari, si sono intrufolati dietro le quinte del Palace e forse parecchi di loro, in una mattina come questa, si sono affrettati su per le scale dell'Agenzia O con il bavero rialzato e il cappello calato sugli occhi. La ragazza si ferma un momento sul pianerottolo e tira fuori dalla borsa uno specchietto, ma non è per farsi bella. Al contrario, mentre si guarda il suo viso assume un'espressione ancora più stravolta. Suona il campanello, passi stracicati. Ad aprire la porta è un fattorino dall'aria poco accattivante. L'anticamera è squaldida. Su un tavolino c'è un giornale, probabilmente il fattorino stava leggendo. «Vorrei parlare con il direttore», fa concitata la ragazza. «Gli dica che è urgentissimo, per cortesia». Si tampona gli occhi con un fazzoletto. Di scene simili il fattorino deve averne viste spesso, poiché si avvia con tutta calma verso una porta, scompare, quasi subito riappare e si limita a farle un cenno. Un attimo dopo la ragazza entra nell'ufficio di Joseph Torrance, ex ispettore della Polizia Giudiziaria e ora a capo dell'Agenzia O, una delle agenzie investigative più famose del mondo. «Prego, signorina, si accomodi». L'ufficio, che ha ascoltato tante terribili confidenze, non potrebbe essere più banale. E Torrance, un colosso bonaccione sulla quarantina, ben curato e ben pasciuto, non potrebbe essere più rassicurante. La finestra, che dà Susite Berger, ha i vetri smerigliati. Le pareti sono tappezzate di scaffalature e schedari. Dietro la scrivania di Mogano, a portata di mano, come in ogni ufficio che si rispetti, c'è una cassaforte. «Mi scusi se sono un po' nervosa, quando le avrò spiegato la situazione capirà. Siamo soli, vero? Vengo dalla Rochelle, è successo là». Non si è seduta, va da un capo all'altro della stanza, appallottolando il fazzoletto, in preda alla più viva agitazione, mentre Torrance carica meticolosamente la pipa. In quel momento si apre la porta ed entra uno spilungone con i capelli rossi, che sembra cresciuto troppo in fretta dentro un vestito diventato troppo piccolo. «Scusi, capo?» balbetta. «Che cosa c'è, Emil?» «Niente, io avevo dimenticato». Prende un fascicolo a caso dagli scaffali e si dilegua in modo talmente goffo che urta contro lo stipite della porta. «Continui, signorina». «Non mi ricordo più a che punto ero arrivata. È stato tutto così drammatico, così inaspettato. Il mio povero papà...» «Forse potrebbe cominciare col dirmi come si chiama?» «Denise, Denise Triard, di La Rochelle. Mio padre è il notaio e Triard. Verrà qui oggi pomeriggio, è già in viaggio. Ma io ho troppa paura sì che ho preferito...» Proprio dietro il banale ufficio di Torrance ce n'è un altro più piccolo, più buio, pieno seppo degli oggetti più disparati. Il giovanotto con i capelli rossi, che il capo ha chiamato Emil, si è seduto a un comunissimo tavolo di abete. Si è chinato per pigiare una specie di interruttore e ora sente distintamente tutto ciò che viene detto nella stanza accanto. Di fronte a lui c'è uno spioncino che dà sull'ufficio di Torrance. Dall'altra parte nessuno potrebbe sospettare l'esistenza di questo spioncino, che sembra un innocente specchio incastrato fra gli scaffali della libreria. Impassibile, con lo sguardo fisso dietro i grandi occhiari di tartaruga e una sigaretta spenta tra le labbra, Emil osserva e ascolta, un po' come quegli addetti agli scambi ferroviari che si intravedono appena nei loro gabbiotti di vetro. La ragazza ha detto «Denise Triard, mio padre è il notaio e Triard». Senza battere ciglio, Emil apre un voluminoso annuario e cerca nella sezione dei notai alla lettera E. Etienne? Etrivaux? Nessune Triard. Emil continua a guardare e ad ascoltare. Poi sfoglia un elenco telefonico, soffermandosi sulle pagine degli abbonati di La Rochelle. Esiste un Etriard, o meglio, una vedova Etriard, pescivendola. Dall'altro lato del vetro la voce dice «In questo momento non me la sento di dirle di più. Mio padre sarà qui al massimo alle quattro e le spiegherà ogni cosa meglio di me. È successo tutto così in fretta. Nel frattempo le chiedo soltanto di mettere al sicuro i documenti che sono riuscita a salvare». Emil prende il telefono piazzato a portata di mano. La suoneria squilla nell'ufficio di Torrance, che alza la cornetta e ascolta. Le chieda a che ora è arrivata. Intanto la ragazza ha tirato fuori dalla borsa una grande busta gialla, resa più solenne da cinque sigilli di ceralacca rossa. «È appena arrivata a Parigi?» «Sì, il tempo di saltare su un taxi e di farmi portare qui. È stato mio padre a dirmi…» «A dirle di rivolgersi a noi?» «Iari sera all'improvviso abbiamo sentito un rumore nello studio. Mio padre ha afferrato la pistola. Nel buio abbiamo intravisto un uomo, che però è riuscito a scappare dalla porta finestra. Mio padre ha intuito subito che cercava questi documenti. Non poteva allontanarsi su due piedi dalla Rochelle. Temendo una seconda incursione mi ha incaricata…» «Quando le avrà spiegato tutto, capirà la ragione del mio nervosismo, della mia angoscia. Quella gente è implacabile!» Durante questa conversazione, Emilio il Rosso continua ad aver l'aria del bravo impiegato immerso nel proprio lavoro. Dopo l'annuario dei notai di Francia, dopo l'elenco telefonico della Charente Maritime, consulta l'orario ferroviario senza perdere di vista la visitatrice per più di qualche secondo. È molto a modo la ragazza. Ha il tipico abbigliamento della provinciale di buona famiglia, tagliore grigio di ottimo taglio, cappellino alla moda ma non vistoso, guanti di pelle scamosciata grigio perla. Ma c'è un dettaglio che Torrance non ha potuto notare perché è troppo vicino e quando sei davanti a una persona che per giunta ti sta parlando è difficile esaminarla con la dovuta attenzione. Emilio invece ha il suo microscopio, come chiama lo spioncino. Se la ragazza, stando a quel che dice, è partita in fretta e furia dalla Rochelle, ha passato parte della notte in treno ed è appena scesa alla stazione dove ha preso un taxi che l'ha portata direttamente a Sittebergère. Come mai il suo sobrio e impeccabile tagliore mostra ancora pieghe molto evidenti, soprattutto quelle che si formano sulle maniche quando una giacca viene messa in valigia. La Rochelle. La Rochelle Orsay. Ecco, l'unico treno proveniente dalla Rochelle è arrivato a Parigi alle 6 e 43 del mattino. Le chiedo soltanto di mettere questo plico al sicuro nella sua cassaforte fino all'arrivo di mio padre. La prego, lui le spiegherà tutto e sono certa che lei non ci rifiuterà il suo aiuto. Molto bene, è persino commovente. Misura la stanza a grandi passi. Chissà se anche il suo nervosismo è simulato. Se mi assicura che suo padre verrà nel pomeriggio, borbotta Torrance, però preferirei che mi lasciasse un suo recapito a Parigi. Ha già preso una camera? Non ancora, lo farò adesso. Prima di tutto volevo... In quale albergo ha intenzione di andare? Ma all'hotel d'Orsay, penso, quello della stazione. Conserverà i documenti, vero? Suppongo che la sua cassaforte sia affidabile, nessuno oserebbe... Accenna un pallido sorriso. Certo, signorina, nessuno oserebbe. Guardi, li metto subito dentro. E quel buon gigante di Torrance si alza, tira fuori dalla tasca una chiave e apre la cassaforte. La ragazza si avvicina con naturalezza. Se sapesse che sollievo è per me vedere queste carte finalmente al sicuro, ne va dell'onore, della vita di un'intera famiglia. Mentre Torrance richiude scrupolosamente la cassaforte, Emile alza di nuovo la cornetta del telefono interno, ma questa volta chiama l'anticamera dove il fattorino legge il giornale. La conversazione, ammesso che si possa definire tale, è breve. In realtà il giovanotto con i capelli rossi si limita a pronunciare cappello. Di colpo aggrotta la fronte. Dopo la chiusura della cassaforte, Denise si è appoggiata alla scrivania di Torrance mormorando. La prego di scusarmi. Finora mi ha tenuto sulla tensione nervosa. Adesso che il mio compito è quasi finito, io... io... Si sente male? chiede preoccupato Torrance. Non lo so, io... Attenta! La ragazza gli si affloscia tra le braccia. Ha gli occhi semichiusi. Sembra sul punto di svenire e cerca di respirare a fondo per resistere. Torrance fa per chiamare soccorso. Lei si oppone. No, mi scusi, non è niente, è un piccolo mancamento. Sfodera quindi un debole sorriso che muove a compassione quel grassone di Torrance. La troverò qui alle quattro, vero? Con mio padre ci sarò anch'io. Le spiegheremo tutto. Ormai sono certa che non ci negherà il suo aiuto. È in piedi in mezzo alla stanza, si china. Il mio guanto? A più tardi, signore. Mi creda? Il fattorino, soprannominato barbè, a causa della peluria incolta che gli ricopre le guance, si alza per accompagnarla fino al pianerottolo. Quando la vede avviarsi giù per le scale, si calca in testa una bombetta verdastra, ben nota a Sitteberger, indossa il cappotto e, uscendo dalla porta di servizio, arriva in Rue du Faubourg Montmartre prima di lei. Torrance intanto si è girato verso lo spioncino, limitandosi a strizzare l'occhio. Emile lascia il suo ufficio ed entra in quello del capo. Che ne dice della ragazza? Allora, l'impiegato con il vestito striminzito non si fa scrupolo di dichiarare in tono che non ammette repliche. Dico che lei è un imbecille. Tutti quelli che hanno messo piede nell'Agenzia O, tutti quelli che in circostanze difficili o drammatiche si sono rivolti al celebre investigatore Torrance, rimarrebbero sbalorditi nel vederlo balbettare il confuso e a capo chino davanti a quel giovanotto che lui stesso presenta ora come impiegato, ora come fotografo, ora fin anche come autista. Vero è che adesso Emile sembra un altro. Certo, i suoi vestiti non sono diventati più lunghi né più larghi, il rosso dei suoi capelli non si è smorzato e ha ancora il volto tempestato di lentigini e uno sguardo da miope dietro gli occhiari di tartaruga. Eppure sembra meno giovane. 25 anni? 35? Chi lo indovina è bravo. Parla con voce secca e tagliente. Che cosa aveva messo nella tasca sinistra della giacca Torrance? Chiede. Torrance si fruga in tasca. Dio mio! Sì, Dio mio! Se crede che una ragazza si getti tra le sue braccia solo per piacere. Ma stava per... Torrance è avvilito, afflitto, mortificato. Deve scusarmi capo. Era riuscito a impietosirmi. Sono un imbecile a ragione. E per quello che ha preso? È un disastro. Bisogna correre dietro. Bisogna rintracciarla a qualunque costo. Barbè la sta pedinando. Pur essendoci abituato, Torrance rimane ancora una volta a bocca aperta. Il fazzoletto, eh? Chiede Emil. Sì, ricorda? Mi ero premurato di metterlo in una vecchia busta. Oggi pomeriggio contavo di... Apra subito la cassaforte, imbecille. Vuole che... che apra? Si sbrighi! Torrance obbedisce. Grande e grosso com'è. Davanti a quel giovanotto magro e occhialuto. Sembra solo un ragazzino. Ancora non ha capito? Capito cosa? Prenda il plico e lo pose sulla scrivania. Anzi no, sul pavimento. È più prudente. Diamine, ora il capo sta esagerando. Torrance non si spiega perché mai una busta che contiene tutt'al più una decina di fogli... È vero che esistono bombe di piccole dimensioni, ma non fino a questo punto. Basta che non riesca a seminare Barbè? Questo è davvero il colmo. Torrance strabuzza gli occhi. Seminare Barbè, come se qualcuno ci fosse mai riuscito. Se la ricorda, la definizione del perfetto caporale, Torrance? Grande, grosso e babbeo. Se continua così, sarò costretto a nominarla caporale. Cosa vuole che le dica? Niente. Com'è cominciata la nostra giornata? Siamo stati chiamati alle otto dalla compagnia di assicurazione. Quante volte è successo negli ultimi sei mesi? Dovrei consultare la mia agenda, dodici o tredici. E che cosa abbiamo trovato facendo i sopralluoghi? Nulla. Per la precisione, abbiamo trovato delle gioiellerie svaliggiate, sempre con la stessa tecnica. Qualcuno che la sera prima si lascia chiudere dentro il negozio. Qualcuno che si fa un baffo delle serrature più sofisticate e di qualsivoglia dispositivo d'allarme. Un bel lavoro, fatto come si deve. E che tracce ha lasciato finora costui? Torrance sembra uno studente impreparato che arrossisce di vergogna. Nessuna. E stamattina, nella gioielleria di Rue Tronchet? Abbiamo trovato un fazzoletto? Questo non le dice nulla? Torrance dà un gran pugno sulla scrivania. Imbecille che sono! Un imbecille totale! Non sente uno strano odore, lei? Torrance annusa l'aria. Le sue ampie narici da buon gustaio palpitano come ali d'uccello. No, non mi pare. Emile ha già guardato un paio di volte il telefono con espressione preoccupata. Basta che barbee. L'agenzia O è sotto scacco da sei mesi, cioè da quando la più importante compagnia specializzata nella copertura assicurativa di gioielli le ha affidato l'incarico di investigare su certi furti di cui la polizia non riusciva a venire a capo. Da allora sono state svaliggiate altre 13 gioiellerie. Nessun indizio, neanche uno straccio di pista. Ma stamattina Torrance ed Emilio il Rosso, impacciato da un ingombrante armamentario fotografico, sono giunti sul posto contemporaneamente alla polizia. Davanti alla vetrina della gioielleria c'era già un mucchio di gente. Capo, mi scusi, potrebbe aiutarmi a ricaricare la macchina fotografica? Quando Torrance è avvicinato, Emilia ha sussurrato. «Sotto il mio piede, un fazzoletto, non dia nell'occhio!» Torrance, ubbidiente, ha lasciato cadere qualcosa e si è chinato a prendere il fazzoletto. Poco dopo, approfittando di un momento in cui non lo guardava nessuno, l'ha infilato in una busta che si è messo in tasca. Chi avrebbe potuto notare quel gesto? Qualcuno che era fuori tra la folla, uno dei due o trecento curiosi. In taxi, tornando a Sitéberger, hanno dato un'occhiata al fazzoletto. In un angolo c'era l'etichetta di una lavanderia. Emilia ha dichiarato. «Ora li teniamo in pugno. Da oggi pomeriggio lei, Torrance, comincerà a fare il giro delle lavanderie». Squilla il telefono. «Pronto?» «Sì!» «Dove?» «Al ristorante dei Quatre Sergeants?» «Cosa vuole che le dica?» «Mangi, caro mio, e mi raccomando, non si azzardi a farsela sfuggire». Riaggancia e spiega a Torrance. La sua ragazza di La Rochelle si è seduta a un tavolo dei Quatre Sergeants, in Plastella Bastille, dove ha appena ordinato il pranzo. Lei continua a non sentire niente? «Mi sa che sto covando un raffreddore». «Ma non le si saranno tappati anche gli occhi, spero?» Dal plico sul pavimento si leva un esile filo di fumo. Torrance fa per accorrere. «Lasci perdere, proprio come pensavo». Pensava che il plico avrebbe preso fuoco? Altrimenti che motivo avrebbe avuto di insistere tanto per farglielo mettere in cassaforte? Le confesso che non ci capisce niente. Eppure è semplice. L'hanno vista prendere il fazzoletto e cacciarselo in tasca. Hanno capito subito che avevamo finalmente un indizio e siccome l'agenzia O gode di ottima reputazione hanno avuto paura. A che ora siamo tornati in ufficio Torrance? Alle dieci e mezzo? E alle undici si presenta la sedicente Denise, dove poteva essere il fazzoletto in quel momento. O era rimasto nella sua tasca, oppure l'aveva posato sulla scrivania, oppure ancora, da uomo prudente, l'aveva messo via chiudendolo in cassaforte. Guardi. Adesso il filo di fumo si è trasformato in una timida fiammella e nel giro di qualche secondo il plico brucia insieme ai fogli che conteneva. Ecco fatto. Se fosse rimasto in cassaforte, il fuoco avrebbe divorato tutto ciò che vi ha custodito. Un trucchetto che qualunque studente di chimica conosce. Carta assorbente impregnata di un composto che dopo un po' a contatto con l'aria entra in combustione. Mentre la frastornava di chiacchiere, la signorina della Rochelle, la cui disperazione l'ha tanto impietosita, andava avanti e indietro nell'ufficio senza lasciarsi sfuggire il minimo dettaglio. Lei ha spalancato la cassaforte. La ragazza si è protesa a guardare. Non ha visto la busta con il fazzoletto. C'era la possibilità che fosse ancora nella sua tasca e questo ha richiesto una piccola commedia supplementare, quella della fanciulla che non si regge in piedi e che si aggrappa alla spalla del grasso e ingenuo signore. Non sono mica tanto grasso, protesta Torrance. Fatto sta che la ragazza è riuscita nel suo intento recuperare il fazzoletto e se ora quel disgraziato di Barbessi azzarda lasciarsela scappare, Emile prende dall'attaccapanni cappello e cappotto. Sarà meglio che vada di persona. Vengo con lei, capo? Il povero Torrance ha un'aria da cane bastonato. Eppure tutti lo considerano un grande detective. Capitolo secondo, dove un paio di forbici da uva vengono usate per tagliare tutt'altro e dove un punch al room si vede attribuire un ruolo insolito. L'uno dopo l'altro i clienti se ne sono andati. Nella sala quasi deserta aleggia un odore di vivande fredde, di vino e di caffè. Seduto a un tavolo accanto alla porta, Emile concede a Barbè, con cui ha pranzato. In modo eccellente, va detto, perché sul menù c'erano lumache e lui ne ha divorate due dozzini. Secco e lungo com'è, sembra incredibile che riesca a mandar giù tanta roba, soprattutto cibi pesanti e indigesti di fronte ai quali arrettrerebbe anche uno stomaco di ferro. Corri in ufficio, dia al capo che non so quando rientrerò. Forse ha mangiato troppo, o forse la mezza bottiglia di Bordeaux che si è scolato comincia a fare effetto. E dire che ha ordinato pure un caffè. Vero è che ne mitiga l'efficacia con un bicchierino di cognac. Di fronte a lui, la ragazza di La Rochelle ha estratto dalla borsa un astuccio d'oro e si è accesa una sigaretta egiziana. Si guardano da un capo all'altro della sala deserta. Sul pavimento c'è ancora un po' di segatura. Il personale ha cominciato a mettere in ordine, spazzare, cambiare le tovaglie, ma quei due non accennano a togliersi di torno e sono già le tre. Quando è entrato, Emile non ha nemmeno tentato di fingere. Ha puntato dritto su Barbè che nel suo angolo cercava di nascondersi dietro un giornale. Tutto bene? Com'è arrivata fin qua? In taxi, purtroppo, sospira Barbè. Se avesse preso il metro o l'autobus, o se avesse fatto anche un solo tratto di strada a piedi, sarebbe in qualche modo riuscito ad appurare cosa tiene in borsa. Barbè, che sotto altro nome è ben noto alla polizia, una volta era un famoso borseggiatore. Ha anche fatto scuola nella zona di Port de Clignancourt, con un manichino munito di campanelli su cui gli allievi si facevano la mano. Ora si è dato alla vita onesta. Perché? È una faccenda tra lui ed Emile. Ha fatto telefonate? Ha incontrato qualcuno? No, ma a un certo punto è andata in bagno. L'ho devo certo entrare con lei. La ragazza li guarda, ed Emile è sicuro di essere stato riconosciuto. E poiché alla Cité Berger l'aveva appena intravisto, quel mattino doveva essere per forza nascosta tra la folla davanti alla gioielleria di Lutronchet. Pazienza, ci sono persone con cui è inutile giocare a gatto e topo. Va pure, barbè. Sono rimasti solo loro due nel ristorante, ai lati opposti della sala, e a tratti pare quasi che si sorridano. Finché una cameriera dice spazientita alla collega. Non capisco perché la fanno così lunga. Quanto ci mettono a decidersi, buon Dio? Tanto si sa come va a finire. Alle tre e dieci, con una specie di timidezza che in pubblico lo abbandona di rado, una cortesia eccessiva che ben si armonizza con il suo aspetto, Emile mormora. Per favore, signorina, sarebbe così gentile da portarmi un altro bicchierino di cognac? Dal fondo della sala, la ragazza che sostiene di venire dalla Rochelle ordina a sua volta. Vorrei dell'uva e un punch al rum. Flambé? Sì, certo Flambé. Insieme all'uva, arriva anche un paio di forbici leggermente ricurve. La cameriera accende un fiammifero e dà fuoco al rum, che forma un anello scuro sull'orlo del bicchiere. A quel punto, la sconosciuta, dopo aver lanciato un'occhiata a Emile, prende con calma un fazzoretto dalla borsa, ne taglia un lembo con le forbici e lo lascia cadere sulla fiamma. Ma cosa fa? balbetta la cameriera. Niente, è una mia ricetta e rivolge un sorriso d'invito a Emile che si alza e la raggiunge. Permette? Prego, si accomodi. Signorina, porti il bicchiere del signore al mio tavolo. Poco dopo, in cucina, la cameriera commenta trionfante. Che vi dicevo, tante storie per poi fare come tutti. Speriamo solo che se ne vadano alla svelta, così potrò finalmente pulire la sala. Se non sbaglio non ci hanno ancora presentati, dice la ragazza soffiandogli in faccia il fumo della sigaretta, mentre Emile ruota educatamente la testa di lato, pensando alle due dozzine di lumache affogate nell'aglio. A meno che, fa a sua volta, lei non sia davvero la figlia del notaio della Rochelle. La ragazza ride, si rilassa. Ormai ha capito che di fronte a lei non c'è più, Torrance, e che i giochetti sono finiti. Qualche graffio alla cassaforte? Abbiamo fatto in tempo a togliere il suo plico. È stato il suo capo, Torrance, a intuire? Il signor Torrance, recita a Emile come se leggesse un volantino pubblicitario, è un uomo che vede tutto, sa tutto e pensa a tutto. E che però ci mette un bel pezzo ad accorgersi che gli hanno ripulito le tasche, al punto che immagino sia stato lei, nascosto in qualche angolo della stanza a... Ma veniamo al dunque. Conte di restare qui tutto il pomeriggio? Preferirei di no. Allora giochiamo a carte scoperte, d'accordo? Prima il suo collega con la barbetta è stato incaricato di seguirmi. Poi è venuto lei a dargli il cambio. La fama dell'Agenzia O e la sua lunga serie di successi mi inducono a ritenere che sarebbe puerile da parte mia tentare con lei il trucco dell'uscita di servizio o quello del cambio di metrò a ripetizione. Avete perso la prima mash ma avete vinto la seconda. Non capisco, mormora lui con un'espressione tanto ingenua da tirare gli schiaffi dalle mani. Avevate il fazzoletto e io me lo sono ripreso. A proposito, voglio restituirle quel che ne resta. L'etichetta della lavanderia è nel mio bicchiere. Dopodiché, ora che ho lei alle calcagna, non posso più andare da nessuna parte. Che allegria! In verità, sospira Emil, la cosa non è poi così spiacevole. Forse è per lei. Signorina, il conto per favore. Faccio un conto unico? Ah no, il signore paga per sé. Che cosa direbbe Torran se la vedessi adesso? Non sembra più così giovane e se anche lo fosse è parecchio smaliziata, dotata però di una certa signorilità, un tratto piuttosto raro negli ambienti che di solito frequentano i poliziotti e gli investigatori privati. È sempre così poco loquace lei? Sempre. Come vuole. Stiamo impedendo a queste povere ragazze di rimettere a posto la sala. Paghi e usciamo. Suppongo che per lei un posto valga l'altro. Allora andiamo sul lungo Senna. Lì staremo tranquilli. Non immaginano che la cameriera che gli ha serviti ha appena perso una scommessa con le colleghe. Era certa, infatti, che la coppia si sarebbe precipitata nel primo albergo di Rue della Bastille. I due, invece, si incamminano con calma lungo boulevard Henri Catre. Lei vuole sapere a tutti i costi dove vado, da dove arrivo, per chi ho lavorato stamattina? È così, non è vero? Mi ha seguita e sono certa che continuerà a farlo. Io invece sono determinata a non fornirle il minimo indizio, o meglio, a non tornare a casa e a non avere alcun contatto con persone che conosco. Si gira a guardarlo e sbotta irritata. Ma non se la può accendere quella sigaretta? Scusi, è un'abitudine, non l'accendo mai. La ragazza credeva che sarebbe stato facile. È la prima volta in vita sua che incontra un tipo impassibile come questo giovanottone dai capelli rossi che la segue con una docilità esemplare. Allora perché la tiene tra le labbra? Non lo so, ma se ne dà tanto fastidio. Perché si fa passare per il fotografo dell'investigatore Torrance? Scusi, ma secondo lei io mi farei passare... Non faccia il finto tonto. Stamattina aveva al collo una gigantesca macchina fotografica e fingeva di scattare foto. Peccato che avesse dimenticato di togliere il copriobiettivo. Emile sorride e ammette. Niente male. Che ruolo ha lei nell'agenzia? Sono un impiegato. In ogni caso la pagano senz'altro poco. E lei come lo sa? Perché porta abiti confezionati che si restringono con la pioggia. Arrivati all'île Saint Louis, la ragazza sospira. Mi chiedo che cosa ne farò di lei, senza contare che vorrei cambiarmi. Lo credo bene. Perché dice così? Perché si è infilato a questo grazioso tagliore in fretta e furia all'ultimo momento, tanto che ci sono ancora delle pieghe sulle maniche. Lei è abituata a un altro tipo di abbigliamento, forse più lussuoso, dato che porta calze da 110 franchi al paio. Un po' care per la figlia di un notaio di provincia. Si intende di calze? Emile abbassa lo sguardo arrossendo. In ogni modo il suo o i suoi complici la stanno aspettando e saranno preoccupati. Con me alle costole mi chiedo come farà a rassicurarli. E dovrà pure andare a dormire da qualche parte. Dovrà... Che allegria! Stavo per dirlo io. Guardano distratti una fila di chiatte trascinate controcorrente da un rimorchiatore. D'altro canto, fa Emile con l'umiltà che lo contraddistingue. Se non dormirà nel suo letto, domani qualcuno ce lo dirà. Lei sussulta, lo guarda e chiede. Può spiegarsi meglio? Al punto in cui siamo non posso certo rifiutarglielo. Segue il mio ragionamento. Se il fazzoletto smarrito nella gioielleria svaliggiata è un corpo del reato così importante da motivare il suo tentativo di stamattina, la faccia breve si gela. Vede, le lavanderie usano due tipi di etichette. Quelle per i clienti privati, che non sono pericolose. Le lavanderie hanno talmente tanti clienti. Ed è per questo che per i grandi alberghi usano etichette speciali. Che stupidaggini, esclama la ragazza. Ma è bastata farla impallidire. In ogni caso, suppongo che lei e i suo o i suoi complici alloggiati in un albergo, quasi certamente un albergo di lusso. L'etichetta poteva metterci sulla pista giusta. Ma ora fa parte della ricetta speciale di un punch che nessuno mai berrà, si spera. Senta, se non ha niente in contrario, è per via delle lumache. Le dispiace se ci fermiamo a prendere una birra al banco in quel bar? Lei lo segue senza fare storie. Due birre? Non mi ha ancora spiegato perché, se stanotte non dormo nel mio letto. Ha visto che ho mandato via il mio collega? Quello che somiglia a un cane da caccia all'anatra? Proprio lui. Con l'aiuto di qualche amico farà un lavoro da certosino. Domattina avremo nome e connotati di tutte le donne della sua età registrati in ogni albergo di Parigi che non hanno passato la notte in camera. Alla sua? Quanto le devo? Le avevo chiesto una cosa prima. Ah sì? Non ricordo. Stanno di nuovo percorrendo il lungosenna. Quanto guadagno all'agenzia O? Che ne direbbe se? Dipende dalla somma che ha con sé. Lei lo prende in parola e apre la borsa. Sono fermi in fondo all'Ile St. Louis, dove si scorge Notre Dame. La nebbia si è un po' diradata. Vediamo. Conta le banconote. Trenta? Quaranta? Cinquantamila? Già canta Vittoria. Quel giovanotto malvestito che sembra un impiegatuccio non rifiuterà di certo una fortuna simile. Le chiedo soltanto di non salire sul metro che sto per prendere. Ma così rimarrà senza contanti, ribatte pacatamente Emile. Non dica di no. Cinquantamila franchi sono tutto ciò che ha in borsa. E se non trovasse il suo complice, si è preso dal panico se la fosse già svignata? Alla ragazza sfugge un lieve sorriso. Ma come? Non li vuole? Non le bastano? È troppo e troppo poco. Non sono bravo in matematica. Ma il colpo di stamattina le ha fruttato ottocentomila franchi in gioielli. Quello del mese scorso in Rue de la Pé, due milioni. Quello di Boulevard Poissonnier? Glielo chiedo per l'ultima volta. Sì o no? Allora Emile mormora con goffa galanteria. Sto così volentieri in sua compagnia? Peggio per lei. La ragazza finge di non occuparsi più di lui. Attraversa il ponte, chiama un taxi. Sale a bordo anche Emile senza essere invitato. La macchina si ferma davanti a un negozio di biancheria in Rue Saint-Honoré. Suppongo che non voglia... Mi creda, adoro la biancheria raffinata. La segue da un reparto all'altro. Alla cassa la commessa chiede a quale indirizzo? Di colpo le viene un'idea. Dì a pure tutto al cameriere di mio marito. Scarpe, calze di seta. Ogni tanto gli lancia un'occhiata ironica, ma lui non batte ciglio e si limita a posare i pacchetti un paio di volte per pulirsi con cura le lenti degli occhiali. Non si è ancora stufato? Per niente, solo che nel taxi non entrerà tutta questa roba. Le cinque. Le sei. Quando gli chiedono di fermarsi in mezzo a un incrucio trafficato, l'autista li guarda storto e li segue fino all'entrata del negozio. Hotel... Vediamo. Hotel du Louvre. Arrivati in albergo, lei chiede una camera. Emile non la perde di vista. Una doppia? No, una singola. E per il signore? Per me niente, mormora Emile. La ragazza è esasperata. In camera, con i pacchetti accatastati sul letto, si fa quasi prendere da una crisi di nervi. Continuerà ancora per molto? Secondo me, la cosa migliore che possiamo fare è andare a bere un drink. In questo albergo c'è un ottimo American Bar. Si intende anche di American Bar adesso? Non meno che di calze di seta, signora Baxter. È il nome che lei ha appena dato alla reception dell'albergo. E mi intendo ancora più di ladri di gioielli. Sbaglia a non voler venire a prendere un Manhattan. La ragazza lo segue all'ibita. È difficile immaginare il modesto signore Emile in un American Bar. Eppure si dimostra a suo agio e corregge addirittura le dosi al barman. Vede, mia bella signora? Le proibisco di chiamarmi mia bella signora. Vede, mia cara? Lei apre la bocca per protestare, ma poi capisce che non avrà l'ultima parola. Potrebbe schiaffeggiarlo fino a farlo diventare rosso come un gambero, prenderlo a calci, coprirlo di insulti, e lui non perderebbe un bricero della sua calma e di quella strana sicurezza, tanto più strana se accostata al suo aspetto oltremodo dimesso. Lei è molto giovane, riprende Emile. E lei allora? Io, se sapesse. Comunque ha scelto il settore più difficile, quello che in apparenza rende meglio, certo, dato il valore delle pietre preziose, ma pieno di rischi. E i ricettatori, anche i più onesti, se così si può dire, quanto sono disposti a pagare per dei gioielli rubati. Un mestiere talmente pericoloso che solo pochi specialisti riescono a farla franca e la polizia sa riconoscere i loro metodi. Quindi, secondo lei, il furto di stanotte? Il furto di stanotte e i dodici che l'hanno preceduto negli ultimi mesi a Parigi avrei giurato fino a qualche giorno fa che fossero opera di Teddy il Calvo. Barman, un altro. Perché dice, fino a qualche giorno fa? Perché ho, scusi, il mio capo, il signor Torrance, che è un asso nel suo campo, ha avuto l'idea di telegrafare alla polizia di New York per accertarsi che Teddy il Calvo fosse ancora sotto chiave. La conferma è arrivata ieri ed è categorica. Così ha la prova che non sono Teddy il Calvo nella sua complice, sugghigna lei. Teddy il Calvo, mia bella signorina? Poco fa mi chiamava mia bella signora. E forse fra poco la chiamerò semplicemente bella mia. Beva il suo cocktail. Teddy il Calvo, dicevo, non ha mai avuto complici, donne o uomini che fossero. I pochi ladri di gioielli che possono vantare successi e che hanno raggiunto una fama internazionale hanno sempre lavorato da soli. Ma Teddy il Calvo ha perfezionato il suo metodo. La ragazza ride a denti stretti. Sa che sembra proprio un maestro di scuola? Di una scuola di campagna, vero? La ragazza non sa più cosa pensare. In Emil c'è uno strano mescuglio di umiltà e orgoglio, autorevolezza e modestia. Ha uno sguardo quale crede che sia il momento più rischioso per un ladro di gioielli. Si direbbe che lei lo sappia meglio di me. È quando deve rivenderli. I preziosi di valore hanno una loro identità, dei dati segnaletici che permettono di seguirne le tracce. È per questo che Teddy il Calvo non lavora al dettaglio ma all'ingrosso. Per tre e sei mesi ripulisce le gioiellerie di una città. Parigi, Londra, Buenos Aires o Roma. Lavoretti rapidi e ben fatti, sempre con lo stesso modus operandi. Ma finché rimane nel paese in cui ha commesso i furti, non smercia nemmeno uno dei pezzi rubati. Teddy il Calvo ha in un certo senso un grossista. Ha i mezzi per prendersela comoda, come si suol dire. Quando ha raccimolato un bottino sufficiente, sparisce dalla circolazione. Non si sente più parlare di lui. Le polizie internazionali lo aspettano al barco, ma lui non arriva. La vendita dei gioielli avviene molto lontano, in un altro continente parecchio tempo dopo. Teddy il Calvo ne ricava di che campare tranquillamente per alcuni anni. Scommetto che da qualche parte del mondo è conosciuto sotto un altro nome. È rispettato e forse è persino il sindaco della città in cui vive. Quando i fondi cominciano a scarseggiare, prepara una nuova missione. Si assenta per sei mesi, un anno. Emil vuota il bicchiere e ne ordina altri due. Insomma, conclude, se la polizia degli Stati Uniti non mi avesse assicurato... scusi, non avesse assicurato al mio capo, l'ex ispettore Torrance, che Teddy il Calvo è in carcere, avrei giurato... Allora succede una cosa in attesa. La ragazza gli posa una mano sul polso e chiede, chi è lei? Non le pare che dovrei essere io a farle questa domanda? Sono un semplice impiegato dell'agenzia O. Se i semplici impiegati sono come lei, chissà com'è il capo. Infatti... Ma se il capo è lei, perché si fa passare per... A questo punto ho anche bevuto tre Manhattan, per non parlare dei due bicchieri di cognac a Icatra Sergent e della birra al bistro dell'Ile Saint Louis. A questo punto, dicevo, posso anche confessarle che è il mio modo di lavorare. Se stamattina fossi stato io a riceverla, mi sarei insospettita. Forse. Oppure non mi sarei insospettito io, senza contare che sono molto timido e che... e pensare che le ho offerto 50.000 franchi. Ha già un'idea su dove andremo a cena? Ho visto che ha comprato un abito da sera. È una fortuna avere una taglia da indossatrice. Ma se bisogna vestirsi bene, dovrà venire da me e rimanere con mia madre mentre io... Mi dica, signore Mill. Cosa? Se potesse, mi manderebbe in galera? Le tremano le labbra. Sa di essere molto carina. Vede il suo riflesso nello specchio tra le bottiglie. Ha gli occhi lucidi e la bocca fremente. E anche il suo accompagnatore le sembra un po' eccitato. Attende, con le dita contratte, la risposta che le cade addosso come un macigno. Non ci penserei due volte. Ma non ce l'ha un cuore? Mio padre, signorina, è stato ucciso da... Ma non è il caso di parlarne adesso. Se può servire a impedirle di fare una sciocchezza, mi spiegherò meglio. Sono così certo della sua complicità in questi furti che qualora tentassi di filarsela, non esiterei a spararle alle gambe. Gambe peraltro molto belle. Villano, fa lei sferrandogli un calcio negli stinchi. E ora, chiede Emil, andiamo o no a vestirci per la serata? Telefono a mia madre per dirle di preparare lo smoking oppure... Non intenderà restare in camera mia mentre mi cambio? Temo proprio di doverlo fare, ma se vuole mi metto in un angolo dietro un paravento vicino alla porta. Cinque minuti dopo, l'ascensore dell'albergo li porta al piano della camera 125. Capitolo terzo, dove Torrance fa una scoperta e una certa ragazza diventa di colpo così loquace che nessun poliziotto potrebbe desiderare di meglio. Mamma, mentre mi vesto fammi la cortesia di sorvegliare la signorina, devi impedirle di uscire o di comunicare con chiunque. I due si trovano adesso in un appartamento confortevole e oltremodo borghese di Boulevard Raspail. La madre di Emil è piccina quanto lui è alto e i suoi capelli ormai grigi di certo non sono mai stati rossi. Come se fosse la cosa più naturale del mondo, suo figlio le ha messo in mano una pistola e lei fa finta di niente. Sorride all'ospite e si prodiga inconvenevoli senza la benché minima ironia. Si accomodi signorina, che cosa posso offrirle? Cosicché lei è un'amica di Emil. Cinque minuti dopo, Emil è pronto. Baccia la madre sulle guance, si riprende la pistola e se la ficca in tasca. Ecco fatto, ora possiamo andare a cena. Poco più tardi entrano al Pelican in Rue de Clichy, dove alcune coppie già ballano tra i tavoli al ritmo di un'orchestra cubana. Emil non ha perso la sua aria timida, eppure ordina le portate come un vero intenditore. Potrebbe dire a quel signore che ho bisogno di parlargli? Seduto a un tavolino dall'altro lato della pista, c'è Torrance, anche lui in smoking, con lo sparato troppo rigido e il volto paonazzo. Permette, signorina? Emil non le stacca gli occhi di dosso. I due uomini sono in piedi a pochi metri di distanza. Ho seguito i suoi consigli, fa Torrance. Ho cominciato dagli alberghi eleganti ma non troppo sfarsosi, mostrando la fotografia della nostra signorina a tutti i portieri. Al sesto tentativo, quello del Majestic in Avenue de Friedland, si è molto stupito. Pensavo che fosse ancora qui, mi ha detto. Poi ha citofonato in camera. Strano, vedo che è uscito anche il fratello. Probabilmente non tarderà a rientrare. Torrance prosegue. Ho fatto convocare tutto il personale del piano. I due sono registrati come Dolly e James Morrison di Filadelfia. La ragazza occupa la 45 e il giovanotto la 47. Le due camere sono comunicanti. Dalle informazioni che ho potuto raccogliere, James Morrison fa una vita abbastanza sregolata. La notte scorsa non ha dormito in albergo e nessuno l'ha più visto. I bagagli? Chiede Emil. Non mi sono azzardato davanti al personale. Ho prenotato la camera 43. Sono arrivato con il mio cameriere privato. Con una strizzatina d'occhio, Torrance fa capire chiaramente che il cameriere in questione non è altri che il villoso Barbè, il quale, con ogni probabilità, a quest'ora è intento a perquisire le camere attigue. Appena sa qualcosa mi avverta, qui o altrove. Se andiamo via dal pelican le lascio un messaggio. Mi scusi, signorina Morrison. Dovevo dare istruzione al mio capo. Il caviale è fresco almeno? La ragazza non sembra affatto stupita di ciò che Emil ha scoperto, ma strabuzza gli occhi quando lo sente affermare. Pensi che stasera Torrance avrà un'interessante conversazione con suo fratello James. Veramente? Proprio adesso James è con un nostro amico. Torrance lo sta raggiungendo e sono certo che suo fratello sarà felice di fornirgli qualche spiegazione. Lei china lo sguardo sul piatto e sospira. Povero James. Non deve essere piacevole per lui, in effetti. Un altro po' di caviale? Una goccia di limone? Senta, signore Emil. È nervosa, agitata. Non mi aspettavo che faceste così in fretta. Mi chiedo ancora come mio fratello abbia potuto essere tanto imprudente, ma prima mi permetta di rivolgerle una domanda. Qual è di preciso il suo ruolo in questa storia? Un'importante compagnia assicurativa, da tempo cliente dell'Agenzia O, ci ha incaricati di recuperare i gioielli rubati nel corso di 13 furti avvenuti in questi ultimi mesi. Tutto qui? Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che non facendo parte della polizia non è obbligato a consegnare il colpevole alla giustizia. I ballerini accanto a loro e le coppie che cenano agli altri tavoli non immaginano neanche lontanamente il tenore di quella conversazione a fior di labbra. Mio fratello è uno sciocco, prosegue la ragazza. Lo sapevo che ci avrebbe messo nei guai. Già stamattina sono dovuta intervenire per evitare che il fazzoletto rimanesse in mano vostra. Balliamo? Propone lui lasciandola esterrefatta. Ma la cosa più sorprendente è che Emile è un ottimo ballerino. Sulla pista illuminata di arancione i due continuano a parlare e la ragazza ha l'impressione che il suo cavaliere la stringa un po' più del necessario. Poco fa quando parlava di Teddy il calvo non si sbagliava. Le è apparso di riconoscere i suoi metodi e aveva ragione, dato che sono sua figlia e James è il mio gemello. Nostro padre ci ha tenuti all'oscuro della sua attività finché tornano al loro tavolo, su cui viene posata una bottiglia di champagne. Dove abbiamo vissuto non ha importanza. Sia contenti di sapere che io e James siamo stati cresciuti come due rampolli di buona famiglia finché nostro padre non è stato arrestato in America poco tempo fa. È la prima volta che la polizia riesce a prenderlo e ci ha comunque voluto uno strano concorso di circostanze. Allora noi due abbiamo pensato che, mettendo insieme una somma sufficiente, forse potevamo farlo uscire di prigione. Per questo siamo venuti a Parigi e... E avete imitato i metodi di vostro padre, conclude Emile. Lei accenna un sorriso. Come vede, non ci siamo riusciti. Il caso ha voluto che durante il colpo James perdesse il fazzoletto. Poi vi ho visti attraverso la vetrina, così ho deciso di... Con gli occhi velati di lacrime e le labbra un po' tremanti, beve un sorso di champagne. Non ce l'ho con lei. Ognuno tira l'acqua al suo molino, giusto? Quello che mi spaventa di più è sapere James in prigione. È un ragazzo delicato. Quando eravamo piccoli, tra noi due la femmina era lui. Come dice? Non ho parlato. Ecco perché prima le ho fatto quella proposta. Anche ammesso che l'abbiate preso davvero, mio fratello non può dirvi dove sono i gioielli, perché ci ho pensato io a nasconderli. Se mi promette di non consegnarlo alla polizia, glieli darò. Lei avrà portato a termine il suo compito. E io le garantisco che stanotte stessa noi lasceremo il paese. Ha allungato il braccio sul tavolo e sta toccando la mano di Emile. Sia gentile, mormora con un'espressione commovente. Lui non ritrae la mano. È imbarazzato e, come sempre in questi casi, si mette a pulire a lungo e con cura le lenti degli occhiali. I gioielli sono al Majestic, chiede dopo aver tossicchiato per schierirsi la voce. Lei corre troppo. Se le rispondo, chi mi assicura che poi manterrà la sua promessa? Guardi che non le ho ancora fatto alcuna promessa. Rifiuta? Crede forse che James parlerà? Non lo conosce. È più testardo, più ostinato di una donna e... Che ore sono? Le undici e mezzo. Che strano. Adesso sembra ancora più nervosa. Forse è l'ora in cui James deve rientrare al Majestic. Oppure... Mi concede questo ballo? Propone Emile. No, grazie, sono un po' stanca. E poi penso a mio fratello e... Le dispiace versarmi da bere? Le trema la mano e parecchio. Emile prende la bottiglia di champagne, tende il braccio. L'ultima cosa che vede sono gli occhi della ragazza, vicinissimi, nei quali gli sembra discorgere uno scintillio ironico. Ma non ha il tempo di rifletterci più di tanto. In quel momento la sala piomba nel buio. Si sente il trapestio dei camerieri, coppie dei ballerini che si scontrano, risate. Non muovetevi, signore e signori. Un attimo di pazienza, per favore. È saltato un fusibile. Emile ha cercato di afferrare la ragazza, ma il suo gesto è andato a vuoto. Corre verso la porta e le scale, ma rimane bloccato tra la folla e c'è anche chi protesta sentendosi spingere. Ma dove va questo che maleducato? Le luci si riaccendono. In sala non c'è più traccia di Dolly. A proposito, si chiama Dolly, Denise o in qualche altro modo? Emile scende al guardaroba. Ha visto per caso una donna che... Quella che ha appena uscito perché non stava bene? Volevo darle il cappotto, ma ha rifiutato. Ha detto che andava solo a prendere una boccata d'aria. Fuori, ovviamente, Dolly, Denise non c'è. Emile senza cappello, in smoking, sul marciapiede pressoché deserto, non lontano dall'insegna luminosa del Casinò de Paris, quando si ferma un taxi. Ne scende Torrance. Dov'è finito? Domanda. Emile aggrotta la fronte. Si chiede se Torrance... Se l'ha lasciato scappare, capo? Pensi che frugandone i bagagli abbiamo scoperto che fratello e sorella sono la stessa persona. Deve essere un uomo. O una donna, replica Emile. In ogni caso, un tipo molto in gamba. Ecco che succede a essere corretti, sospira il giovanotto con i capelli rossi. In albergo, mentre si cambiava, sono rimasto dietro a un paravento. E lei ne ha approfittato per scrivere un biglietto. Una volta qui l'avrà dato al metro a un cameriere, probabilmente allungando di un centone. Alle undici e mezzo in punto, fate buio per qualche istante. Ha avuto anche l'accortezza di chiedermi da bere, in modo che avesse una bottiglia in mano. Torrance non dice niente. Forse non gli dispiace vedere che anche il suo strano capo ogni tanto facilecca, e alla fine si permette di punzecchiarlo. Sicuro che non le ha ripulito le tasche? Capitolo quarto, dove Torrance è preoccupato per l'inerzia del suo capo, che però poi finisce per dare ordini. 3 del mattino, si tè berger. Torrance ha fatto bollire l'acqua sul fornellino elettrico e ha preparato il caffè. Emile invece è sdraiato su un divanetto e fissa il soffitto. Se vuole sapere come la penso, non capisco perché non va a dare un'occhiata al Majestic. Lo so, è difficile che Barbès si lasci scappare un indizio, e anch'io ho guardato dappertutto. Emile non si muove. Sembra non sentirla nemmeno la voce di Torrance. Insomma, qual è il punto della situazione? Abbiamo la prova che il ladro o la ladra? La ladra, sospira Emile. Non osa aggiungere che poco prima, ballando, la stretta abbastanza da poter essere certo che era una donna quella che teneva tra le braccia. Va bene, la ladra, se proprio ci tiene. Allora, abbiamo la prova che i furti di gioielli sono stati commessi da una donna, che questa donna era ospite del Majestic sotto il nome di Dolly Morrison e sotto quello di suo fratello James, il che era abbastanza comodo perché le permetteva di entrare e uscire in abiti femminili o maschili. In un grande albergo come il Majestic, nessuno si è stupito di non vedere mai fratello e sorella insieme. Che poi sia davvero la figlia di Teddy il Calvo? Fatto sta che ci è sfuggita. Resta una sola domanda, l'unica che è ancora conti. Dove sono nascosti i gioielli? Perché è là che andrà la ragazza, dove sono i gioielli? Il Majestic è sorvegliato. Nelle due camere non abbiamo trovato niente e nemmeno nella cassaforte dell'albergo. Emile mormora assorto. Per essere un poliziotto, Torrance, lei parla davvero troppo. E lei è troppo avulico. Insomma, non so se si rende conto che il tempo passa. Certo ha portato alla polizia la foto della nostra sconosciuta e a quest'ora tutte le stazioni, tutti i porti. Senta, Torrance, se non la smette di fare tanto chiasso vado a straiarmi sul pianerottolo. Allora, dove era rimasto? Per colpa di Torrance gli tocca riprendere ogni volta il filo del ragionamento. Posto che la donna ha svaliggiato tredici gioiellerie. Posto che occupa due camere in un grande albergo di Parigi. Posto che i gioielli non sono stati venduti. Posto che a quanto pare non sono al Majestic. Mi porti una tazza di caffè, Torrance? Che cosa faceva Teddy il Calvo in casi come questo? Non si sa, perché dei suoi metodi non ha mai parlato con nessuno. Emile è persuaso che, almeno su un punto, la ragazza non abbia mentito. È davvero la figlia di Teddy il Calvo. E potrebbe veramente aver intrapreso questa serie di furti al solo scopo di mettere insieme una grossa somma per organizzare l'evasione del padre. Il ragionamento fila è abbastanza verosimile. Va bene. Arriva a Parigi. Mette a segno un primo colpo, quello di Boulevard de Strasbourg. Poi i furti si susseguono, quasi uno alla settimana. Che cosa ne fa dei gioielli? Il problema è tutto qui. Che cosa ne fa dei gioielli, in attesa di averne a sufficienza prima di andare a venderli all'estero? Quasi intuendo i pensieri del capo, Torrance prepara un altro caffè e dice «Deve avere un secondo domicilio a Parigi». «Scommetto di no». Perché? Innanzitutto perché è molto intelligente. Poi perché usa i metodi messi a punto con cura dal padre, che nel corso della sua lunga carriera è stato arrestato solo una volta. E sebbene Ted il calvo sia in carcere da parecchi mesi, la polizia americana non è ancora riuscita a scovare la sua refurtiva. Senza contare che al Majestic, nel doppio fondo di un baule, è stata trovata un'attrezzatura completa da scassinatore. Se la ragazza avesse un secondo domicilio, è lì che avrebbe lasciato quell'armamentario compromettente, no? Le dispiace sedersi invece di andare e venire come un orso in gabbia? «Cerco solo di non addormentarmi», borbotta Torrance, «se dobbiamo passare la notte qui». «Forza, ricominciamo». Questa volta Emil pensa in prima persona. È lui la ragazza. Ha portato a termine con successo il suo primo colpo, alla refurtiva in tasca. Non occupa molto spazio. Gli interessano solo i gioielli di valore, soprattutto i diamanti. Cosa gli conviene fare? Una ruga profonda gli solca la fronte. Continua a fissare ossessivamente una macchia sul soffitto. «Bisogna, è indispensabile che quei gioielli rimangano a sicuro per settimane, se non per mesi». «Bisogna che se per disgrazia mi arrestano o mi pedinano, se scoprono il mio domicilio?» Sente di essere a un passo dalla verità. «Ma certo! Anche se la sospettano, se la sorvegliano, se frugano nei suoi bagagli, l'importante è che non trovino alcuna prova contro di lei. Capisci, ragazzo mio?» Il ragazzo, quel Torrance di un metro e ottantacinque, guarda il suo esile capo con gli occhi sgranati. «Capisco cosa. Quanti uffici postali ci sono a Parigi?» «Un centinaio, penso». «E che ore sono?» «Le quattro e mezzo del mattino. Le dispiacerebbe svegliare il capo della polizia giudiziaria? A lei che è stato il braccio destro del commissario Megre non rifiuterà nulla. Gli chieda di metterle a disposizione per un'ora domattina, quanti più uomini possibile. È urgentissimo, mi creda. Gli uffici postali aprono alle otto, vero? In ogni ufficio dovrà... Ha capito? Gli dica di far stampare la foto della ragazza in un numero sufficiente di copie. Solo il viso, senza i vestiti. No, basta, caffè, grazie. Nell'attesa cercherò di dormire». Parigi comincia a svegliarsi. La nebbia si è liquefatta in una pioggia gelida e sottile. Le strade sembrano verniciate. Dei poliziotti dall'aria assonnata e musonita entrano nello stesso istante nella maggior parte degli uffici postali della città, dove gli impiegati sono appena arrivati. Polizia giudiziaria potrebbe dirmi se negli ultimi tempi una donna somigliante a questa... Emile Russa. È difficile immaginare che un giovanotto così magro possa fare tanto rumore. Sono quasi le nove quando Torrance lo scuote. «Capo! Capo!» «Dove?» chiede Emile recuperando di colpo la lucidità. «Dankerque, hotel Franco-Belge. Telefoni presto! All'albergo? All'albergo e alla polizia di Dunkerque. Si sbrighi!» Entrambi indossano ancora lo smoking, ma hanno gli sparati meno candidi della sera prima e la barba lunga. Per giunta, Torrance ha sparso ovunque la cenere della sua pipa. L'ufficio ha il tipico aspetto del mattino che segue una notte insonne, con tasse sporche e avanzi di croissant sulle scrivanie. «Pronto, signorina? Mi chiami con urgenza il 180 a Dunkerque. Poi mi chiami subito il 243. Sì, massima priorità». Emile nel suo gabbiotto. «Ha decisamente una passione per gli orari ferroviari?» Dunkerque. «Quando la ragazza ha lasciato il pelican erano le undici e mezzo. Bene, non ci sono treni prima delle sei del mattino, dunque non può ancora essere arrivata a Dunkerque. Però si ha preso una macchina». Emile conta i chilometri sulla mappa e fa un rapido calcolo. Il telefono squilla. «Capo, è l'hotel Franco-Belge. Pronto? Parlo con la direzione? Come dice? Il direttore non è ancora arrivato? Lei è la cassiera? Qui la polizia. Inutile specificare che si tratta di polizia privata. Mi ascolti attentamente, signora. Nelle ultime settimane avete ricevuto vari pacchetti indirizzati a una vostra cliente, la signora Olri, non è vero?» La cassiera ripete. «La signora Olri? Aspetti che chiedo. Io non mi occupo di...» «Jean, sono arrivati dei pacchi per la signora Olri? Come?» «Sì, è proprio così. A quanto pare una persona ci ha scritto dall'estero chiedendoci di custodire la sua corrispondenza. Jean, da dove ci ha scritto questa persona? Un momento, scusi. Come? Da Berna?» È a voce più alta nella cornetta. «Da Berna. Sembra che siano arrivati diversi pacchetti. Un momento, signora. Per favore, Jean può occuparsi lei della signora?» Un'intuizione? Emilie Impallidisce. «Non riattacchi! Senta, stava parlando con una cliente, vero?» «Sì, esatto. Una cliente che è arrivata in macchina? Aspetti che guardo... Sì, in effetti c'è una macchina davanti alla porta, un taxi parigino. Stia zitta, per l'amor di Dio, non dica niente! Mi ascolti bene. Quella cliente non deve andarsene. Le chiederà di consegnargli i pacchi arrivati per la signora Olri. Mi raccomando, non...» «Pensa che sia la signora Olri?» «Ma che idiota!» urla Emilie Furibondo. La cassiera, che non ha capito niente, continua in perterrità a fare sciocchezze. Si gira verso la cliente e le chiede... «Lei e la signora Olri, vero? Mi chiamano appunto per...» «Zitta!» «Come? Non sento bene!» «Me ne sono accorto! Che cosa sta facendo la cliente?» «Aspetti, gliela chiamo! Signora? Signora? Jean, corri del dietro e chiedile se...» «Pronto? È ancora in linea? Si figuri che la signora è risalita in macchina? Sì!» «Jean, il taxi è ripartito?» «Pronto? È ripartito. Quindi adesso che cosa devo fare? Voglio dire, se mi richiedono quei pacchi...» «Dove sono?» «Non lo so, saranno da qualche parte qui in ufficio, insieme alla corrispondenza dei clienti in viaggio. Capita spesso che...» «Li metta subito in cassaforte. Non li dia a nessuno, chiaro? A nessuno! Se quella donna ritorna? Ma è impossibile. Dopo quello che ha sentito, non ritornerà. No, signora, buona giornata!» Quando riattacca, ha gli occhi fuori dalle orbite. Si asciuga la fronte e si lascia cadere su una sedia. «Se avessi tra le mani quella maledetta cassiera!» Torrans, che non ci ha capito niente, chiede. «Ma che succede?» «L'avevamo in pugno. Mentre parlavo al telefono, lei era là, nella hall dell'albergo. Era arrivata in taxi da Parigi. Ancora qualche seconde avrebbe chiesto i pacchetti recapitati a nome suo. Bastava farla fermare dalla polizia. Lo sapevo che non mi sbagliavo, che non potevo sbagliarmi. Doveva per forza essere vicino al confine. Capisce, Torrans? Chiaro come il sole. Dopo ogni furto, i gioielli venivano impacchettati e spediti, neanche raccomandati all'indirizzo di una certa signora Olri. Arrivavano in un albergo vicino alla frontiera, così in caso di grane?» Prende una sigaretta dall'astuccio, ma come al solito si dimentica di accenderla. A poco a poco si calma. Alla fine addirittura sorride. «Si sarà chiesta come ho fatto?» «È una sensazione piacevole insieme irritante, quella di aver giocato con un avversario molto forte finendo alla pari. Perché nessuno aveva perso. Certo, Emile aveva ritrovato i gioielli, e la compagnia di assicurazione non gli chiedeva altro. Ma Dolly... Dolly o Denise? Insomma, la ragazza ora aveva tutto il tempo di attraversare la frontiera. Forse non si sarebbero più rivisti. Che ricordo avrebbe serbato di lui? E lui, che ricordo serbava di lei? «Che cosa devo fare, capo?» chiede Torrance. «Bisognerebbe telefonare all'assicurazione. Si faccia accompagnare a Dunkerque da un loro delegato. Dica che... che ha scoperto tutto stanotte grazie ai suoi personali metodi investigativi e all'ineguagliabile organizzazione dell'Agenzia O. Il capo della polizia giudiziaria mi chiederà che fine ha fatto la ragazza. E lei gli risponderà la verità, che non ne sa niente. In quel momento un cliente suona il campanello. Barbè è ancora di guardia al Majestic e non può certo andare ad aprire. Quindi ci va Emile dimenticando di essere in smoking. Vuole parlare con il capo? Chi devo annunciare? Vado a chiedergli se può riceverla». Grazie a tutti.